buongiorno a tutti e ben ritrovati sono giulia volontaria dell'associazione uniamociollus e voi siete sulla pagina facebook di uniamociollus allora eccoci qui per un'altra lezione di inglese per quanto riguarda il nostro corso allora 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 qual è la lezione di oggi allora la lezione di oggi è questa allora la lezione è un una sorta di continuazione è comunque completamento per quello che riguarda la lezione di ieri vi ricordate che abbiamo fatto either neither nieder abbiamo visto un po i vari usi perfetto ieri diciamo che abbiamo visto gli usi un po più semplici anche tu and so abbiamo visto appunto gli usi più semplici adesso andiamo a vedere quelli che sono un attimino degli usi un pochino più complessi allora quindi andremo a studiare both puntini puntini and quindi ora vi spiego che cosa vogliono dire questi puntini intanto ciao carlo ciao silvia ciao davide ciao a tutti ragazzi poi abbiamo either o either puntini puntini or quindi either o either ricordatevi ragazzi il th è the quindi either either vi ricordo che la pronuncia di either o either sono queste due quindi sono interscambiabili tra di loro quindi le potete utilizzare perché non c'è differenza in questo caso tra americano e britannico poi è come ultimo abbiamo neither o neither che quindi come either o either puntini puntini nor andiamo a vedere un attimino queste queste piccole particelle del discorso queste piccole paroline andiamo a vedere adesso come si usano perché ieri vi ho fatto fare appunto delle frasi dove noi dicevamo dovevamo rispondere anche io oppure neanche io quindi essere mostrarci in accordo o in disaccordo con la frase ovviamente che veniva detta di riferimento quindi mentre invece questo è un caso diverso perché è un caso diverso perché allora cominciamo con appunto le prime regolette allora io tra both and and either or and neither and nor ho messo dei puntini perché queste due paroline vanno intanto accoppiate insieme a due a due quindi both and vanno insieme either and or vanno insieme neither and nor vanno sempre insieme però ovviamente vanno messi in punti della frase differenti e andremo a vedere quale allora intanto dobbiamo dire per esempio prendiamo le prime due parole che sono both and both and vengono utilizzati per indicare le due alternative quindi quando nella frase ci sono per esempio due due oggetti no o due persone a cui noi facciamo riferimento parlando noi molto spesso diciamo sia questo che quello o questo o quello né questo né quello quindi noi per esempio indichiamo una preferenza quindi adesso impareremo a farlo con ovviamente queste paroline quindi iniziamo con both and both and both and indicano infatti entrambe le alternative quindi significa sia questo che quello quindi quando in una frase noi diciamo che ne so io preferisco sia questo che quello allora noi diremmo both and both and intanto ciao veronica ciao fabiana ciao a tutti quelli che mi stanno ascoltando quindi both and significa sia questo che quello quindi sia e che per esempio allora a me piace molto fare degli esempi così di modo che capiate gli esempi pratici ovviamente che cosa voglio dire ovviamente questi sono solo degli esempi per farvi capire ma voi ne potreste fare a milioni anche a miliardi quindi potremmo finire l'anno prossimo di fare questi esempi e partiamo subito col primo esempio i can speak both english and spanish i can speak both english and spanish quindi come vedete ragazzi both abbiamo qui e l'abbiamo qui solitamente queste 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 frasi cioè queste parole ragazzi le mettiamo prima delle delle due cose alle quali ci riferiamo che siano cose che siano persone eccetera eccetera quindi i can speak both english and spanish ciao giuseppe ciao a tutti significa io so parlare sia l'inglese che lo spagnolo quindi io so parlare sia l'inglese che lo spagnolo quindi indica il fatto che io so due cose due lingue in questo caso quindi come abbiamo detto indica le due alternative quindi sia questo che quello quindi ripetiamo di nuovo i can speak both english and spanish i can speak both english and spanish both ragazzi ricordatevi che qui alla fine c'è il th il th è ovviamente th in questo caso è th 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 ricordatevi appunto con la fuoriuscita dell'aria quindi i can speak both english and spanish si bravo vincenzo dolce che ci traduce con so parlare sia inglese che spagnolo bravissimi voi continuate sempre a ripetere insieme a me e quindi questo è both and 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 passiamo a either or ie the or oppure either ragazzi è uguale ormai non non ve lo dico più perché ormai lo sapete l'avete capito quindi either or indica una delle due alternative quindi indica una delle due alternative Quindi, so parlare o l'inglese o l'inglese. Quindi, indica una delle due, ovviamente. E poi, ragazzi, abbiamo neither e nor, oppure neither. Quindi, quando voi non preferite nessuna delle due alternative, ovviamente, voi l'indicherete con neither o neither e nor. In questo caso, io, cioè, significa non parlo, non so parlare né il francese né l'arabo. Quindi, significa che, appunto, io non so parlare né il francese né l'arabo. Quindi, significa che io so parlare sia l'inglese che lo spagnolo. Mentre, invece, qua abbiamo I can speak either or either english or spanish. Quindi, so parlare, quindi posso parlare o l'inglese o lo spagnolo. E quindi, ti sto dicendo, ovviamente, decidi tu quale io voglia, quale tu vuoi che io parli. Fabiana ci dice, sto andando a mangiare a più tardi. Ciao Fabiana, buon pranzo. Quindi, indica una delle due alternative. Mentre, invece, qua abbiamo I can speak neither or neither french nor arabic. Significa, io non so parlare né il francese né l'arabo. Adesso, ragazzi, capita, diciamo, queste regolette, ovviamente, che penso che siano molto facili. Insomma, è tutta una questione di esercizio. Andiamo a vedere un po' gli altri esempi. Quindi, come vedete, ragazzi, both and and vanno sempre messi prima delle due alternative che noi prendiamo come riferimento. Quindi, mi piacciono sia i gatti che i cani. I like both cats and dogs. Quindi, mi piacciono sia i gatti che i cani. Mentre, invece, per either or, che ricordiamoci indica solo una delle due alternative, noi diciamo I can have either a cat or a dog. Quindi, posso avere o un gatto o un cane. Quindi, solamente una delle due. Andiamo a vedere come diventano un po' queste frasi con neither and nor, che indicano nessuna delle due alternative. Quindi, I like neither cats nor dogs. Quindi, in questo caso, non mi piacciono né i gatti né i cani. Quindi, indica che proprio io non preferisco nessuna delle due. Quindi, nel primo esempio abbiamo both and, che indicano appunto sia questo che quello. Poi, abbiamo either o either e or, che indicano solamente una preferenza. Quindi, I can have either a cat or a dog. Quindi, posso avere o un gatto o un cane. Quindi, non posso avere tutte e due. Mentre, invece, se a noi non piacciono nessuna delle due categorie, I like neither or neither cats nor dogs. Quindi, non mi piacciono né i gatti né i cani. Dolce Vincenzo ci dice Mi piacciono sia i gatti che i cani senza il de. Sì, ovviamente, ragazzi, quando dice cats e dogs al plurale, ovviamente, non ci va il de. Perché indica appunto un insieme di, in questo caso, di animali. Un insieme generico. Quindi, quando è generico il de non ci va. Ci siete, ragazzi? Tutto a posto? Tutto a posto? Allora, ditemi un po' se sono chiara o no. Io intanto continuo con gli altri esempi. Abbiamo ancora un altro esempio. Quindi, lui suona e canta. Quindi, lui può fare tutte e due le cose. Quindi, lui suona, plays e canta. Quindi, lui sia suona che canta. Carlo ci dice Chiara è brava. Grazie mille, Carlo. Troppo buono. Quindi, qua ci indica, ovviamente, tutte e due le alternative. Ci dice che lui sia suona che canta. Andiamo adesso al secondo esempio. Quindi, con either and or. Che indica solo una alternativa. E qua ci dice He can either sing or play. Quindi, lui può o cantare o suonare. Quindi, significa che lui può fare solamente una delle due cose. Quindi, o canta o suona, ovviamente. E qua, appunto, c'è una sorta Qua si indica, ovviamente, una preferenza. È chiaro. Perché poi possiamo chiedere all'altra persona Anche Cosa vuoi che io faccio? O quale vuoi che io scelga? Nel caso in cui bisogna fare delle scelte. Quindi, o questo o quello. Dolce Vincenzo ci dice Suona e canta allo stesso tempo. Allora, nel primo esempio È allo stesso tempo. Quindi, lui sia suona che canta. Nello stesso, nel secondo esempio Lui può fare tutte e due le cose. Però, o suona o canta. Quindi, due cose contemporaneamente Non le può fare. Quindi, lascia Ovviamente qua Lascia sottintendere Che è la scelta finale Spetta a noi. Per esempio Cosa vuoi che io faccia? Che suoni? O che canti? Questo è l'esempio. E poi, abbiamo l'ultimo esempio He neither O neither Plays Nor Sinks Quindi, lui Non suona Né canta Quindi, significa che lui Non sa né suonare Né cantare Ci siamo? Quindi, noi Non possiamo Non abbiamo possibilità Di scelta Perché, ovviamente Lui non sa né suonare Né cantare Quindi, noi Non possiamo scegliere Allora Quindi, he Neither O neither Plays Nor Sinks Quindi, lui Né Suona Né Suona Né Canta Ci siamo? Quindi, queste piccole paroline Sostituiscono Sia questo Che quello O questo O quello Oppure Né questo Né quello E ovviamente Poi I vari Le varie alternative Le decidete voi È chiaro In base poi A di che cosa Volete parlare Bene, bene, bene Allora Quindi Ricapitolando Both Facciamo Facciamo un attimino Un po' di esercizio Con la pronuncia Both Both Abbiamo O O Quindi B O Quindi O T H E F In questo caso F F F Quindi con La lingua All'infuori E In mezzo ai denti E poi L'emissione di aria Quindi Both Poi abbiamo Either O Either Che abbiamo Con il TH Però questo TH È D E poi abbiamo Neither O neither Sempre con questo TH Ricordatevi ragazzi È molto importante È molto importante il verbo Perché Ovviamente State attenti Soprattutto con Either E neither Perché Come vi ho spiegato Anche ieri Gli inglesi Mettono una negazione Alla volta Quindi Nel caso di Neither Per esempio Perché è più Plateale La cosa Io il verbo Ce l'ho in positivo Quindi I like Quindi dovrei dire Mi piace Come faccio A capire Che Non mi piace Anziché Mi piace Perché Ovviamente Metto Neither In questo caso Quindi Neither Mi indica Che è Una negazione Quindi Abbiamo Come al solito Verbo Positivo E poi La parolina Con la negazione Di seguito Se fosse stato Invece Either O either Io ve lo ricordo Sempre Ovviamente Sarebbe stato I don't like Quindi Se noi diciamo I don't like Either Cats Or Dogs Significava Esattamente La stessa cosa Di I like Neither Cats Nor Dogs Semplicemente Perché appunto È una questione Di Una negazione Alla volta Ragazzi Quindi Mi raccomando Se voi Vedete Il verbo Al negativo Mettete Either Se invece Vedete Il verbo Al positivo E volete Fare Una negazione Mettete La parolina Neither Ricordatevi Che ovviamente Poi Se voi Vi ricordate Per evitare Di confondervi Tra Either And neither E poi Or And nor Ovviamente Qua Non abbiamo La n E qua Non abbiamo La n Quindi Either Or Quindi Questi due Vanno insieme Qua Invece Cominciano Tutte e due Con la n Quindi Neither And nor Quindi Vanno insieme Questi due Quindi Non vi potete Sbagliare Poi Both E And Sono Completamente Diversi Quindi Both Tra l'altro Indica Entrambi Quindi Per esempio In questo caso È like Both Cats And Dogs Quindi Possiamo Possiamo Anche dire Semplicemente Se noi Cats And Dogs Li abbiamo Nominati Già Prima Quindi Ne stiamo Già Parlando Diremmo I like Both Of Them Chiaramente Quindi I like Both Of Them Per indicare Cats And Dogs Quindi Non c'è Bisogno Eventualmente Di Dover Ripetere Per forza Cats And Dogs Se Nel Discorso È già Stato Detto Quindi Se Nel Discorso È già Ovvio Vincenzo Dolce Dice I don't Like Either Sì Esattamente Esattamente Questo Che Dico Però I don't Like Ragazzi Ricordatevi La prima Persona Singolare Soggetto Quindi I Si scrive Solamente Con La I La I Va Sempre Mai Mi Raccomando Anche Dopo Il Punto La I Dopo La Birgola Scusate La I Va Sempre Mai Mai E Poi Appunto I Don't Like Either I Like Neither O Neither È uguale Sì Diciamo Che Avete Capito Dai Tutto Sommato Alla Fine Sono Sono Delle Cose Molto Facili Però C'è Da Capire Però Sono Un Pochino Magari Fanno Confondere Nel Momento In Cui Poi Ve Lo Dovete Andare A Ricordare Ovviamente Ragazzi Queste Particelle Le Dovete Mettere Sempre Prima Delle Due Cose Che State Paragonando Quindi In Questo Caso Bo So La Prima Di English E Poi And Va Prima Di Spanish Quindi Both Prima Della Della Prima Alternativa And Va Prima Della Seconda Alternativa Poi Abbiamo Anche Either Or Che Che Prima Della Prima Alternativa Or Va Prima Della Seconda E Poi Per Finire Abbiamo Neither Nor Nor Va Prima 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 Cosa Che Noi Stiamo Paragonando Quindi La Prima Alternativa E Nor Va Prima Della Seconda Alternativa Carlo Di Paola Ci dice Vincenzo È troppo Bravo Le cose Giuste Sì Vincenzo È molto Bravo Per Esempio Ma Anche Tu Carlo Sei Molto Bravo Siete Tutti Molto Bravi Ragazzi E Molto Preparati Mi fa piacere Avere Degli Allievi Così Attivi E Così Preparati Quindi Allora Avete Dubbi Perplessità Domande Questa Intanto È Appunto La Lezione Di Oggi Come Vedete Alla Fine È Molto Semplice Poi Ripeto Vi Potete Divertire A Fare Gli Esempi Più Disparati Quindi Per esempio Would You Like Either Tea Or Coffee Quindi Vorresti Del Tè O Del Caffè Quindi Indica Anche Un'alternativa Anche In Questo Senso Davide Dice Carlo Lei Mi Sembra L'ultimo Della Classe Ovviamente Carlo Non Ti Offendere Si Scherza Per favore Perché Sennò Carlo Non Segue Più Le 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 Bu Do importante S ALL 1 2 1 Sulla pagina Facebook di Uniamoci Ollus Vi ringrazio per avermi seguito Vi auguro un buon pranzo E ci vediamo domani Sempre alle 12.45 Mi raccomando Pagina Facebook Uniamoci Ollus Ovviamente le precedenti puntate Io vi ricordo sempre Che potete vederle anche su Youtube Al canale Sempre Uniamoci Ollus Carlo ci dice Più tardi la rivedo Faccio i corsi di recupero Bravo Carlo Potete sempre rivederla Quando volete Tanto qua rimane Io vado Ma rimango sempre Perché tanto le potete vedere all'infinito Io vi auguro buon pranzo E ci vediamo domani Ciao a tutti Da Giulia Dall'associazione Uniamoci Ollus Ciao ciao